Buon pomeriggio, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. L'emergenza coronavirus frena la curva del contagio, ma il governatore della campagna Vincenzo De Luca chiede ancora rigore. In campagna l'utilizzo delle mascherine all'aperto ci sarà almeno fino alla fine di febbraio. In tutte le altre regioni stoppa le mascherine all'aperto dall'11 febbraio. Dall'11 febbraio il governo non prorogherà l'obbligo di mascherine all'aperto in zona bianca. Altra cosa è comprendere cosa intenderà fare la campagna. Di sicuro il trend della pandemia è in decrescita, i numeri migliorano, ma non dimentichiamo che ad oggi la regione è in zona gialla. Cambiano anche le regole per le scuole. Da oggi, dalle elementari alle superiori, i vaccinati e i guariti del Covid rimarranno sempre in classe, mentre per i non vaccinati si dimezzano i giorni di didattica a distanza. Ed è proprio questa distinzione che non è gradita ai dirigenti scolastici, perché, spiega Francesco De Rosa, presidente di ANP Campania, pur comprendendo che bisogna procedere per step, noi siamo costretti a sobbarcarci un carico di lavoro aggiuntivo. La nuova norma costituisce sicuramente una semplificazione, ma avremmo preferito regole ancora più semplici, aggiunge De Rosa, che ci avrebbero permesso di tenere a casa l'alunno positivo e tutti gli altri regolarmente a scuola, senza distinzioni tra vaccinati e non vaccinati. E intanto proseguono i controlli delle forze dell'ordine, 14 tra locali e attività imprenditoriali controllate, come bar, locali e pizzerie, con un verbale per occupazione abusiva di solo pubblico, e inoltre 95 controlli sul fronte delle verifiche al codice della strada, con 82 verbali effettuati oltre alla rimozione di 17 veicoli con carri gru. Sono questi i dati, proprio dei controlli sulla Movida effettuati dalla Polizia Municipale di Napoli, sul lungomare, nelle aree di Chiaia e nel centro storico. Gli agenti hanno effettuato inoltre 133 controlli per la normativa anti-Covid su titolari e clienti delle attività imprenditoriali, elevando due verbali per il mancato controllo e il possesso del Green Pass. Particolare attenzione è stata posta al contrasto dell'abusivismo nel trasporto pubblico in seguito ai servizi di controllo disposti e anche grazie alle segnalazioni delle organizzazioni sindacali dei tassisti. È stato sorpreso un abusivo che trasportava ragazzi da comuni della provincia di Napoli nei luoghi della Movida Cittadina, al trasgressore, oltre alla sanzione economica, è stata ritirata la carta di circolazione del veicolo. Siamo in collegamento con il direttore generale dell'ASL, Napoli 1, Ciro Verdoliva, grazie per essere nuovamente con noi. Ben trovato, direttore. Buongiorno a tutti. Allora, direttore, questa quarta ondata sembra frenare un cauto ottimismo, c'è bisogno ancora di rigore, ma forse siamo fuori dal tunnel. Il trend ci fa comprendere che il numero dei positivi sta scendendo, purtroppo abbiamo ancora diversi decessi e questo ci dispiace moltissimo, ma ci fa ancora capire che il virus è cattivo, letale, quando trova un organismo che può essere attaccato perché ha di fondo delle patologie. Mentre invece sulle degenze, le nostre degenze sono ancora piene e questo appunto ci fa comprendere che la guardia non deve essere abbassata. Certamente i dati in valore assoluto scendono, la complessità della necessità di ospedalizzare il patente scende, ma io direi prudenza, prudenza, prudenza. Certo, c'è da dire che un dato scoraggiante c'è ancora troppi over 50 non vaccinati. Su questo adesso dobbiamo cominciare a cambiare passo, perché adesso dall'invito passeremo ad adottare, così come il decreto legge ci ha disposto, i controlli, perché abbiamo invitato solo giorni, settimane, che diciamo agli over 50 venite a vaccinarvi senza prenotazione, quando volete, nei nostri centri, nelle farmacie, nei medici di medicina generale, però abbiamo ancora circa poco meno di 50 mila soggetti che residenti su Napoli Capri e Anacapi che non si sono ancora sottoposti alla somministrazione. Con l'Agenzia delle Entrate stiamo iniziando a trovare un contatto perché i controlli dell'Agenzia delle Entrate e le nostre verifiche possano essere effettivamente messe in campo, così che inizieranno anche le prime contravvenzioni. Voglio anche ricordare che dal 15 febbraio ci sarà l'obbligo per i lavoratori ad avere il Green Pass, quindi tra qualche giorno gli over 50 saranno controllati sui posti di lavoro e non potranno lavorare se non muniti di Green Pass. Quindi penso che in questi prossimi giorni noi siamo pronti ma, ripeto, accogliamo tutti coloro che volessero venire anche se in estremo ritardo, ma l'invito è sempre attivo. Certo, quello, insomma, vaccinatevi, per questo l'Asl Napoli 1 ha ancora in campo tutte le possibilità per accelerare la campagna vaccinale, quindi non regredisce ma punta comunque a velocizzare quanto più possibile anche questa fase molto delicata perché, insomma, se veramente riusciamo a raggiungere un numero di persone elevato, forse veramente siamo fuori da questa pandemia che tanto ci ha fatto soffrire. Beh, ci ha fatto soffrire, ci ha dato tanto dolore per i tanti morti che ci sono stati, tante preoccupazioni e anche tanti danni, ma noi dobbiamo assolutamente riprenderci. Io ripeto, con prudenza perché il Covid ci ha insegnato che ogni volta che abbiamo abbassato un po' la guardia e ritornato alla grande, siamo oggi alla quarta ondata e quindi prudenza sulle azioni non farmacologiche, mascherina, condizioni igieniche, lavaggio delle mani, distanziamento fisico, ma soprattutto quell'azione farmacologica, cioè il vaccino che tanto ha premiato chi ha scelto questa strada, non fosse altro che anche se positivizzato ha potuto affrontare la malattia con minore preoccupazione e con minori tempi di guarigione, soprattutto con zero danni fisici, anche quelli successivi alla negativizzazione. Certo, bisogna però guardare oltre il Covid, ritornare alla normalità anche per quanto riguarda la prevenzione e la cura delle altre patologie. Dobbiamo organizzarci in tal senso? Sì, dobbiamo organizzarci in tal senso. La Napoli 1 Centro ricordo che ha due ospedali ancora dedicati solo ed esclusivamente al Covid, il Loreto Mare e il San Giovanni Bosco. Dobbiamo assolutamente tenere conto che quanto prima dobbiamo uscire da questa situazione, ma vorrei anche sottolineare che questa quarta ondata, in particolare negli ultimi 40 giorni, si è caratterizzata perché pazienti che hanno altre patologie hanno anche il Covid, cioè il Covid non è più la preoccupazione del paziente ricoverato in ospedale, la preoccupazione per altri tipi di patologie di fondo, ma il Covid ci crea il problema di avere un numero maggiore di pazienti che magari devono convivere negli stessi reparti con pazienti che invece sono negativi. Quindi questa è una delle maggiori difficoltà che stiamo affrontando e l'avere due ospedali dedicati, uno per le degenze e le terapie attive e il San Giovanni Bosco invece per le specialistiche di ortopedia, di osteticia ginecologia, di chirurgia generale, vascolare, neurochirurgica e quant'altro, è importante perché ci permette di lasciare dei luoghi che non siano promiscui tra positivi e negativi. Insomma una situazione ancora complessa da gestire, ma pensiamo in maniera ottimistica, chiaramente come abbiamo detto prima, con la dovuta prudenza. Grazie direttore, ci aggiorneremo nelle prossime settimane. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Arrivederci, buona giornata. Sequestro di tamponi e mascherine non a norma un'operazione della Guardia di Finanza. Un maxisequestro di mascherine FFP2, tamponi rapide e antigenici, non a norma è avvenuto nella giornata di oggi a Barano di Ischia, in provincia di Napoli. La Guardia di Finanza è intervenuta all'interno di un grande magazzino dell'Isola Verde, scoprendo 487 confezioni di tamponi rapide e antigenici COVID e 284 mascherine che non rispettavano gli standard sanitari minimi. Dei successivi riscontri è emerso che le confezioni non avevano etichettatura o tantomeno indicazioni in lingua italiana e dunque neppure informazioni ed avvertenze per i consumatori. Al termine dell'operazione, il titolare del grande magazzino è stato segnalato alla Camera di Commercio per le violazioni amministrative previste dal Codice del Consumo. Si tratta di un cittadino di origine cinese di 33 anni, residente nel comune di Barano di Ischia. Tutti i dispositivi FFP2 e i tamponi antigenici rapidi sono invece stati sequestrati dai baschi verdi e ritirati dal commercio. Indagini in corso per capirne l'origine e gli eventuali rischi in corso in chi li aveva acquistati nei giorni precedenti. Non è il primo sequestro del genere che avviene tra il capoluogo partenopeo e la provincia negli ultimi mesi. I rischi di utilizzare a propria insaputa prodotti di questo tipo sono di contrarre il virus nel caso delle mascherine FFP2 e di non rilevare la presenza del virus attraverso i tamponi antigenici rapidi, i quali molto spesso hanno già un tasso di errore elevato, segnalando falsi negativi, a differenza dei tamponi molecolari che al momento sembrano essere l'unico tampone in grado di rilevare con certezza la presenza del Covid. Siamo in collegamento con Luigi Iovino, deputato del Movimento 5 Stelle. Grazie per essere in collegamento con noi. Ben trovato. Grazie a lei e a tutti i vostri telespettatori. Allora, caos nel Movimento 5 Stelle, carte bollata e il Tribunale sospende Conte. Cosa sta accadendo all'interno del Movimento dopo anche le dimissioni del Ministro Di Maio da garante del Movimento? Beh, guardi, sicuramente il Movimento 5 Stelle ha una linea politica molto chiara, quella di rispettare, a prescindere, la posizione della magistratura. Quindi noi siamo rispettosi di questa posizione ed ovviamente dal punto di vista politico oggi rimettiamo tutto in mano al nostro garante, a Beppe Grillo che saprà fare la scelta più giusta come ha sempre fatto negli anni, ci ha sempre guidato, ha sempre avuto una visione lungimirante e ci affidiamo nuovamente alla sua saggezza. Su quello che ha fatto Luigi Di Maio mi permette di dire che io condivido appieno questa sua posizione perché dimostra non solo un'umanità immensa ma soprattutto di essere un grande leader perché Luigi non è la prima volta che fa un passo indietro per il bene del Movimento e farlo in questo momento vuol dire davvero dare la possibilità di avere un confronto laico aperto a tutti senza avere in qualche modo la possibilità di inficiare il dibattito visto il ruolo di garanzia che lui ha avuto fino a qualche giorno fa nel Movimento 5 Stelle. Certo, insomma il leader da voi riconosciuto universalmente nel Movimento Grillo ritiene che la situazione sia abbastanza complicata, le sentenze dice si rispettano ma capisce che il momento è assolutamente critico. Si è rotto un po' il giocattolo dopo l'elezione del Presidente della Repubblica? Beh guardi questo sicuramente è un fummi al cesserino questa sentenza che arriva proprio durante un momento molto caotico ci sono delle difficoltà nel dialogo che abbiamo rispondato anche nel gruppo parlamentare e abbiamo chiesto al nostro Presidente Giuseppe Conte a suoi vice di poter aprire una fase di riflessione interna al Movimento per avere l'unico obiettivo che abbiamo sempre avuto quello di ripartire più forte di prima e lavorare per il bene del Paese. Ovviamente oggi noi rispettiamo la sentenza come ho già detto però questo non andrà ad inficiare assolutamente sull'azione politica del Movimento né su quello che i parlamentari e tutti gli eletti del Movimento 5 Stelle portano avanti nelle sedi istituzionali ogni giorno. Conte dal canto suo dice la mia leadership non dipende dalle carte bollate ha un valore politico e annuncia una nuova votazione sulle modifiche dello Statuto e anche qui c'è qualche problema voteranno anche i nuovi iscritti come funzionerà? Insomma è un momento complesso per tutti voi è a rischio la tenuta del governo? Guardi quello che dice Giuseppe Conte è vero lui è il nostro Presidente perché lo abbiamo chiesto tutti e lui ha accettato questo incarico anche con un grande sostegno degli iscritti quindi non è una questione politica ma giuridica ovviamente però non possiamo bypassare tutto ciò che è avvenuto in queste settimane e quindi ripeto va aperta una fase di riflessione all'interno della nostra forza politica e Giuseppe Conte come è stato il nostro Presidente può tranquillamente continuare ad esserlo con tutto il nostro sostegno noi siamo i fautori del nuovo corso e coloro che vogliono sostenerlo quanto più possibile però alcune cose vanno migliorate e vanno riviste ma nell'ottica sempre di aiutare questa forza politica ad incidere a livello governativo per migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini e quindi anche il governo io penso che non si possa parlare di stabilità o di crisi perché siamo in un momento davvero caotico con i contagi che stanno risalenti e soprattutto con i fondi del PNRR che vanno assolutamente spesi e utilizzati per non rischiare di perdere perché il nostro Paese ha per la prima volta la possibilità grazie a Giuseppe Conte e al Movimento 5 Stelle che li hanno ottenuti in sede di contrattazione europea di poter incidere e sistemare i tanti problemi che è il nostro Paese Allora noi la salutiamo e la ringraziamo per non essersi sottratto in questo momento così difficile a nessuna delle nostre domande e naturalmente torneremo ad aggiornarci sulla situazione all'interno del Movimento 5 Stelle Grazie, buon lavoro Grazie a lei, alla vostra regia, a tutti i vostri telespettatori La lotteria degli scontrini non entusiasma più di tanto i contribuenti Assieme all'operazione Cashless doveva essere, a detta del Ministero dell'Economia una nuova grande arma di incentivo alla fedeltà fiscale ma la lotteria degli scontrini voluta fortemente dal governo Conte 2 nel 2020 fino ad oggi è stato un emerito flop Lo scopo principale doveva essere quello di disincentivare con più forza il nero aiutando così le istituzioni a contrastare l'evasione fiscale sempre meno elevata nel nostro Paese e che con la pandemia poteva diventare devastante Una lotteria a cui partecipare è molto semplice basta utilizzare la moneta elettronica e un codice creato online e questa lotteria mette in palio ogni settimana 15 premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore 15 premi da 5.000 euro ciascuno per l'esercente 10 premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e 10 premi di 20.000 euro ciascuno per l'esercente un premio da 5.000.000 euro per il consumatore e un premio da 1.000.000 euro per l'esercente ogni anno Tutto molto interessante, peccato che a Napoli e in Italia in tantissimi non hanno aderito e praticamente quasi nessun cittadino chiede all'esercente oggi a distanza di due anni di partecipare al gioco In alcuni casi, come ci hanno spiegato i commercianti dal 2002 ad oggi, nei loro negozi massimo due persone hanno chiesto di giocare alla lotteria degli scontrini E anche i numeri relativi ai premi inducono perplessità Su 30 milioni vinti negli ultimi due anni ne sono stati reclamati soltanto la metà Ecco perché il governo, in queste ore, sta pensando di cambiare le regole e rendere la lotteria istantanea stampando un QR code su uno scontrino da cui si potrà controllare subito se si è tra i vincitori Ma cosa ne pensano i commercianti? Ecco le loro risposte In realtà non è ancora capitato che sia arrivato qualcuno che abbia chiesto se noi fossimo abilitati o meno È solo due persone e non è molto pubblicizzato è una cosa per me inutile anche perché questa lotteria va su internet non è che siamo tutti tecnologici Io ho aderito immediatamente perché non c'era nulla da pagare in più oltre all'aggiornamento della cassa del registratore fiscale ma le dico che da quando è cominciato è venuta una sola persona a chiedermi, una o due massimo, a chiedermi di fare lo scontrino con il biglietto diciamo Secondo lei è stato un flop? Guardi, non glielo so dire Io che cosa le dico? Che il governo, parlo, sono di parte ma dico che il governo dovrebbe fare altro Noi siamo veramente, si quasi parla di ripresa economica ma a mio parere non è per nulla vero La chirurgia estetica non conosce crisi e in pandemia aumenta il fatturato Non bastano i filtri per i selfie e le luci soffuse per le video call nonostante le minori occasioni sociali e le mascherine che coprono il volto e le sue imperfezioni da ormai due anni continua a crescere la richiesta di interventi di medicina estetica Secondo un recente studio, nel 2020 soltanto negli USA sono stati spesi oltre 9 miliardi di dollari per migliorarsi attraverso la chirurgia e la medicina estetica una cifra che stando all'estima è stata ampiamente superata poi nel 2021 I social in questi anni di pandemia hanno cambiato le nostre abitudini Prima del covid, gli utenti si paragonavano soltanto alle grandi star, agli attori ai personaggi famosi ma oggi la situazione è cambiata radicalmente Tutto questo tempo trascorso sui social o più in generale davanti ad uno schermo magari fissando per lunghe ore la propria immagine durante lo smart working ha reso le persone, uomini e donne più consapevoli o forse semplicemente più spaventate dei propri difetti e li ha spinti quindi a chiedere l'intervento mirato per iniziare un processo di rimodellamento del viso e del corpo Il dottor Giuseppe De Santis medico estetico partenopeo ai nostri microfoni spiega quali sono le esigenze di uomini e donne che fanno ricorso alla medicina e alla chirurgia estetica Le nuove frontiere altro non sono che il mantenimento di uno stato di eleganza dei tratti del volto con un rallentamento dell'invecchiamento Nel terzo superiore useremo la tossina botulinica in particolare quella di Allergan o anche quella di Merz che sono legali e studiate Nel terzo inferiore invece si faranno i cosiddetti filler Oggi noi cerchiamo non di aumentare volumetricamente le zone del volto ma cerchiamo un'armonizzazione globale E' chiaro che questo non esclude anche la cura del corpo Prevalentemente utilizzeremo Abbiamo anche dei programmi di dimagrimento globali per cui il paziente viene qua a tre volte la settimana si sottopano a dieta movimento fisico attraverso ciclette e a trattamento laser terapico E' un pochettino come andare in palestra però in sicurezza e in un ambiente ristretto una persona alla volta in presenza del medico Poi abbiamo trattamenti localizzati come la mesoterapia, l'intralipoterapia, la pressoterapia e tutta una serie di apparecchiature che confluiscono nel dimagrimento localizzato o generale Il Napoli sale in classifica e pensa al match con l'Inter Sabato prossimo alle 18 al Diego Arnando Maradona La fila è lunga ma si aspetta quello che si deve aspettare per il Napoli tutto Tornata la febbre per il Napoli? No, c'è sempre stata, sono sempre andata Sognare secondo me non costa nulla a questo punto se ci siamo proviamoci Dipende da se si fanno tre punti domini Prima, sognare non costa nulla Penso che questo mese sarà decisivo Vedremo dopo questo mese possiamo capire se possiamo sognare Io personalmente sono un po' pessimista perché comunque il Napoli arriva sempre che deve fare quel passo e non lo fa mai quindi penso che la squadra è improntata per arrivare in Champions o no per lo scudetto Andiamo sempre, secondo me, con le aspettative basse è sempre meglio Meglio non farci troppe aspettative perché si può rimanere delusi quindi bisogna restare concentrati sull'obiettivo cercare di vincere contro l'Inter e andare avanti a testa bassa A me mi ha casato un sacco sognare si deve sempre per questa scuola io ho realizzato che siamo a un punto non ci credevo ero convinto che lo scudetto fosse andato ma siamo qua sognare si deve sempre Si sogna sempre è dal nostro DNA sognare Mi sta piacendo molto in primis anche se ieri non è partito di dolare Elmas che sta dimostrando una grande costanza quando gioca e spero tanto nel grande ritorno di Victor Rosimane che ieri si è sbloccato finalmente e deve continuare così Nella squadra lo vodka mi ha sorpreso un sacco Fabian è criticato ma a me mi piace Di Lorenzo è un fatica come un sacco sulla fascia corre come un animale è un grande Vabbè i miei sono Ruiz e Mertens Mertens per sempre e Ruiz vabbè Il capitano nonostante vada via a fine stagione deve continuare a onorare la maglia Non sentirò la mancanza considerando anche come sta giocando ultimamente assolutamente no Secondo mi potrebbe fare di più Sta giocando bene però non ho dubbi che fino alla fine del campionato darà il 100% Fa il suo insieme a fatto quello che doveva fare insieme L'equazione del cuore l'ultimo romanzo di Maurizio De Giovanni presentato al teatro di Anna Si intitola L'equazione del cuore il nuovo libro di Maurizio De Giovanni presentato al teatro di Anna di Napoli ultimo romanzo per lo scrittore napoletano un libro che avrebbe voluto scrivere da sempre in cui confluiscono felicemente tutte le sue macchine narrative e dove trovano una sorta di maturo compimento De Giovanni racconta di Massimo un professore di matematica in pensione che dopo la morte della moglie vive da sola in una casa isolata a Procida Va solo a pesca e scambia rare telefonate con la figlia Cristina che sta in una città del nord improvvisamente lo avvisano che la figlia e il genero sono morti e il loro figlio piccolo in coma dopo il funerale vorrebbe tornare nella sua isola ma i medici lo vogliono accanto al nipotino e lui contro voglia gli fa compagnia raccontandogli a suo modo la sua matematica e la fascinosa armonia dei numeri intanto fuori dall'ospedale si sente addosso agli occhi della piccola città dove lo indicano come potenziale erede di un'impresa in cui lavorano in tanti è un libro che parla di un personaggio tormentato e meravigliosamente umano messo dinanzi al mistero del cuore è un romanzo diverso dagli altri e ci è voluto coraggio perché era una necessità scriverlo ma è anche un romanzo molto diverso da ogni altro mio quindi sono contento di averlo scritto se non mi diverto io non si diverte nemmeno chi mi legge quindi mi devo divertire mi devo appassionare mi devo emozionare devo commuovermi devo provare con passione finché lo faccio c'è qualche possibilità di trasferirlo sulla pagina io scrivo perché sono napoletano è la mia causa è la mia necessità non avrei mai raccontato niente se non fossi stato qui sul palco del Diana le letture di Sergio Castellitto e le musiche di Marco Zurgolo accompagnato da Carlo Fimiani alla chitarra e Marco De Tilla al contrabbasso io sono molto felice di leggere le pagine di questo libro di Maurizio perché in questo libro lui è riuscito a raggiungere una bellissima sapienza fra la sua capacità di raccontare trame storie plot piuttosto che suspense e così via insieme a una come dire a un'indagine psicologica e anche romantica per certi versi che è sorprendente rispetto a quello che ti potresti aspettare soltanto per il fatto di raccontare di svelare un segreto io mi auguro che un giorno mi danno pure la cittadinanza perché ogni tanto ci vengo e ci vengo sempre volentieri perché è una città che è sempre generosa con me se volete interagire con la nostra redazione potete farlo scrivendo al numero whatsapp di Televomero 3394628565 un servizio ANM sarà partner di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 la partnership culturale è stata ufficializzata nella stazione municipio della linea 1 della metropolitana con la sottoscrizione formale di un accordo grazie al quale l'azienda Mobilità sosterrà la promozione dell'evento con una serie di iniziative tra cui percorsi guidati di visita tra le stazioni dell'arte Toledo e Municipio segno riconoscibile della partnership è la campagna di comunicazione idee in movimento insieme per una nuova idea di cultura claim che riassume obiettivi e valori condivisi con Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 diffusa su tutti i canali istituzionali statici e digitali delle stazioni metro funicolari e a bordo dei mezzi di superficie all'evento internazionale ANM ha inoltre dedicato un milione di ticket di viaggio special edition già in vendita e mappe tascabili del sistema di trasporto integrato regionale alla firma dell'accordo erano presenti il sindaco di Procida Dino Ambrosino il direttore di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 Agostino Ritano l'assessore ai trasporti del comune di Napoli Edoardo Cosenza e l'amministratore unico di ANM Nicola Pascale Non si è mai pronti abbastanza perché alla fine ci sono sempre dettagli da curare e il lavoro da fare quindi certo siamo impegnati con tutta la squadra dei dipendenti delle persone che ci stanno assistendo grazie alla regione Campania e cercheremo di presentarci nel migliore dei modi speriamo che appunto all'inizio della primavera avremo disperso il coronavirus e potremo con la cerimonia inaugurare cominciare degnamente il nostro anno da capitale noi siamo carichi sicuramente e lavoreremo fino alla fine dell'anno per dare tante soddisfazioni agli isolani e napoletani e a tutti gli abitanti della regione Campania Questa è un'azione simbolica però in realtà dietro questa azione simbolica c'è la volontà forte di voler evidenziare quanto i temi della mobilità sono decisivi nella città del futuro a Improcida Capitale affronteremo diverse di queste tematiche legate alla città del futuro perché siamo profondamente convinti che la cultura abbia questa capacità di riuscire a veicolare visioni e soprattutto è grazie alla cultura che possiamo lavorare sul cambiamento del nostro pianeta ANM fornisce due contributi al comune di Procida nell'ambito dell'iniziativa Capitale della Cultura il primo è di carattere come dire trasportistico nella misura in cui noi gestiamo sia la linea 1 della metropolitana e quindi l'adduzione a piazza municipio e a lab portuale che la linea Alibus di collegamento dell'aeroporto con la stazione centrale e con il porto di Napoli quindi c'è un contributo di carattere trasportistico ma ce n'è anche uno di carattere culturale ANM gestisce il principale museo di arte contemporanea della città di Napoli è davvero tutto grazie per essere stati con noi un piacevole pomeriggio continuate a seguire i nostri programmi arrivederci per la città di Napoli